perde la palla a centro capo ed ecco il gol, il gol di Lanziotti che a due minuti dall'inizio della gara porta in vantaggio la formazione di casa gran gol di Lanziotti che recupera palla sulla linea di porta quasi e poi deposita col portiere fuori dai pali 1-0 per il Candius Room Cagliari, gol di Lanziotti al terzo per Luisigno, pochi spazi per la formazione del Candius Room Cagliari ma ciò ancora per Spano, Spano tunnel, tunnel su numero 9 Busetti e mette a segno un gran gol gran gol del numero 9 della formazione del Candius Room Cagliari, Spano che dopo un tunnel il diretto avversario mette in rete sorprendendo anche l'estremo difensore del Rosta Torino Getty 11-23 al termine della partita, il Candius Room Cagliari si riporta in vantaggio per 2-1 bellissime azioni di Spano che tenta l'uno contro uno, gli riesce il tunnel e supera anche l'estremo difensore palla che va all'estremo difensore, lavora adesso benissimo la palla Lanziotti, passaggio di Luisigno e grandissimo gol di Meloni per il 3-1, lavora benissimo la palla Lanziotti, la scarica su Luisigno e il suo appoggio per la corrente Meloni che di prima intenzione tira, sorprende così l'estremo difensore per il 3-1 quattordicesimo